Era agli arresti domiciliari, ma nonostante questo continuava a spacciare, così una 39enne bulgara è di nuovo finita in manette. Da qualche giorno, infatti, gli investigatori della squadra mobile della Questura di Arezzo avevano notato uno strano viavai di tossicodipendenti da un palazzo in zona San Clemente, al cui interno abitava una donna già gravata da numerosi precedenti specifici ed attualmente ha i domiciliari proprio per spaccio. La misura restrittiva evidentemente non aveva scoraggiato la donna, che aveva continuato nella sua attività illecita svolta, facendo salire i clienti direttamente in casa. Così è scattata la perquisizione. Nell'appartamento, dopo una lunga e meticolosa attività di ricerca, i poliziotti hanno trovato 12 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere spacciate, ben occultate all'interno di una gamba di legno di un tavolino. Per la 39enne è così scattato l'arresto per spaccio di stupefacenti.